Questo è giovedì 8 febbraio, veloce. Una nuova richiesta di denaro si è recato dai carabinieri della compagnia di Giuliano e ha denunciato tutto. Dopo una serie di indagini il suo strozzino è finito in galera. I militari dell'arma hanno infatti arrestato un uomo di 62 anni di merito. L'uomo, a fronte di un prestito di 22 mila euro, è riuscito ad ottenere da un commerciante di Giuliano la restituzione a tassi usurari di ben 34 mila euro. La vittima originale che aveva la sua dignità a Mugnano era arrivata allo stremo. L'uomo, che si è rivolto allo strozzino poiché era in gravissima difficoltà, ha consegnato i soldi fino a quando ha potuto. Poi è arrivata la denuncia e l'intervento dei carabinieri. Due soggetti già noti alle forze dell'ordine sono stati arrestati a Napoli in flagranza di furto e in appartamento dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero. Si tratta di un 34enne e di un 38enne, entrambi di Miano. I militari dell'arma sono intervenuti d'urgenza in via Emilio Scaglioni, a seguito di segnalazione a 112, che avvertiva della presenza di persone sospette. I due, intuito l'arrivo dei militari, si sono dati alla fuga saltando sul tetto di una palazzina. Subito i rincorsi sono fatti raggiunti e bloccati prima che riuscissero a calarsi dal tetto dei palazzini vicini. Per essere pronti all'emergenza in caso di terremoto in mare, i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e Militari dell'Esercito Italiano si sono riuniti in Piazza del Ricolo a Pozzuoli per la terza edizione dell'esercitazione congiunta Efesto 2017. Lo scenario è quello di un terremoto a largo della costa del Golfo di Pozzuoli, a una profondità di circa 8 km, che potrebbe scatenare anche un maremoto con onde alte, quasi 3 metri. Un evento del genere renderebbe necessaria l'evacuazione medica degli abitanti a rischio e così, grazie all'esercitazione promossa e organizzata dal Comune di Pozzuoli e dall'Accademia Aeronautica con la collaborazione del 118, del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile, con l'alto patrocino della Presidenta del Consiglio dei Ministri, i cittadini non si faranno trovare impreparati. È circa 4 milioni e 400 mila euro il costo degli interventi di manutenzione straordinaria, stradale, affidati dalla città metropolitana di Napoli con la firma del relativo contratto alla ditta che ha vinto la gara d'appalto. Si tratta di interventi che interesseranno numerosi comuni dell'area orientale della città metropolitana per i complessivi tra 150 km di strada provinciale della prossima settimana di preparo i 4,4 milioni di euro. Il primo gruppo interesserà i comuni di Nola, Saviano, Palma Campania, Ottaviano, Somma Vesuviana, San Paolo Versito, Casa Marciano, Comiziano Tufino e Visciano. Si allontana ancora la data di apertura dello storico parco dei divertimenti di Napoli e dell'Andia. L'inaugurazione, prevista inizialmente per il 31 maggio, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere ulteriormente posticipata. A mancare al momento sarebbero le autorizzazioni del Comune e della soprintendenza che devono ancora pronunciarsi per il certificato di agibilità. Proprio a fine maggio, come riporta Repubblica, scadranno gli ammortizzatori sociali per i 53 lavoratori del parco divertimenti. I 10 sono stati assunti da il Mio e dell'Andia, società che ha rilevato l'azienda fallita. I tanti affezionati alla struttura di fuori grotta intanto sperano che le formalità burocratie, che possano essere superate presto e che l'impianto possa essere restituito alla città in sull'estate. Giovedì 8 febbraio 2024 La campagna, anche quest'anno, rientrerebbe tra le regioni più decorate d'Italia e risulterebbe, come per il 2016, la prima del centro-sud. Lo scorso anno furono posizionate sulle spiagge ben 14 banniere grazie all'ingresso di San Mauro Cilento. Soltanto l'esclusione a sorpresa di Sapri, cancellò la speranza di ottenere un nuovo record. E sono già 22.000 biglietti venduti per l'incontro di calcio Napoli-Caglia in programma a San Paolo sabato alle ore 18. Soltanto lo stadio, anche grazie a Etiquetta a costo basso, è pronto a riempirsi, a riferirlo all'edizione napoletana di Repubblica. Questo è Giovedì 8 febbraio, adesso io stacco.